Il viaggio nel tempo non esiste ancora, ma da qui a 30 anni lo inventeranno. Quando le organizzazioni criminali del futuro devono far fuori qualcuno, prosperiscono a me nel passato. Io sono uno dei tanti killer qui nel presente chiamati Looper e l'unica regola che abbiamo è mai lasciar fuggire un bersaglio, anche quando il tuo bersaglio sei tu. Con questo viaggio nel tempo a qualcuno gli si frigge il cervello. Grazie per la visione! Grazie per la visione!